Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite News Ragazzi prima di cominciare con il video vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale con la campanellina se non lo avete ancora fatto Di lasciare un bel like, di condividere questo video con i vostri amici E mi raccomando di seguirmi anche su Instagram, Cecchinato, trottino basso tv Detto questo ragazzi direi che possiamo subito incominciare con il video di oggi Andremo a vedere nuovi leak davvero molto interessanti per quello che riguarda l'aggiornamento di Halloween Andremo a vedere quando uscirà il nuovo aggiornamento perché come sapete questa settimana non c'è stata Insomma altri leak che sono uscite nelle ultime ore Direi ragazzi che possiamo subito incominciare per quello che riguarda lui ragazzi Midas potrebbe tornare con il nuovo aggiornamento patch 14.30 Quindi l'aggiornamento di Halloween come boss Infatti ragazzi probabilmente arriverà come avevo già detto nello scorso video Una nuova location proprio inerente ad Halloween E in teoria ragazzi da questo leak dicono che dovrebbe esserci come boss diciamo Quindi quello che diciamo di solito contiene la card del cavo è un'arma di solito dedicata per lui E in teoria quindi dovrebbe anche arrivare una nuova arma Ma nulla di confermato al 100% rimane per ora un leak Vi lascio comunque qui l'immagine del concept di come potrebbe diciamo essere il boss di Midas Che è veramente fatto benissimo come vedete versione zombie Tra l'altro ragazzi guardandola bene ci starebbe benissimo come skin nel negozio oggetti verso Halloween Ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate innanzitutto di Midas come boss Poi ditemi anche se vorreste una skin nello shop come la vedete qua nell'immagine La per il mio è bellissima ci sarebbe un sacco Costo sui 1500 barra 2000 la farei pagare Veramente fatto bene Andando ragazzi avanti con i leak vi metto questa immagine subito alla mia destra Come possiamo vedere quest'utente ragazzi molto probabilmente giocando nella modalità dei supereroi Ha trovato questo diciamo bug che mostra in anteprima la skin di Black Panther come diciamo boss su Fortnite Infatti ragazzi come sappiamo Black Panther arriverà nella mappa di Fortnite come boss Ma soprattutto ragazzi lo vedremo nel negozio oggetti Quindi magari chi lo sa che nel periodo di Halloween anche se non c'entra diciamo magari più di tanto Potrebbe magari arrivare finalmente all'interno della mappa Ovviamente nulla di confermato però comunque quest'utente ha trovato questo bug Quindi sicuramente qualcosa si sta muovendo all'interno dei file di gioco E presto lo potremo vedere in game e nello shop Ma adesso ragazzi andiamo avanti e parliamo della patch 14.30 Quindi l'aggiornamento che porterà Halloween quando arriverà Come sappiamo ragazzi questa settimana purtroppo non c'è stata la patch Quindi niente Halloween ancora per questa settimana Ma dei leakers dicono che la prossima settimana esattamente martedì Finisce un evento diciamo sfida degli ignomi Che come sappiamo ci dava 60.000 XP E quindi molto probabilmente con lo scadere di questa sfida potrebbero Diciamo aggiungere in quella data quindi martedì la patch nuova E quindi portare finalmente Halloween all'interno di Fortinet Comunque ragazzi state pure tranquilli che la prossima settimana Al 100% avremo l'aggiornamento 14.30 Questo perché ovviamente devono anche aggiungere le sfide riguardanti la settimana 8 e 9 Quindi sicuramente avremo l'aggiornamento o martedì o mercoledì o giovedì Sicuramente in quelle date probabilmente avremo la nuova patch E come ultimo argomento ragazzi vi volevo parlare della situazione Epic Games e Apple Infatti non ve ne parlavo da un po' Perché non c'erano diciamo delle news riguardanti questo diciamo tema Ma finalmente qualcosa si sta incominciando a muovere In data ragazzi 3 maggio 2021 Sì lo so è ancora lontanissima come data Bisogna ancora aspettare tanto Ma ragazzi questi sono i tempi purtroppo In questa data ragazzi ci sarà l'ultimo diciamo processo Tra Apple e Epic Games Una volta fatto quest'ultimo processo ragazzi non ce ne saranno degli altri Quindi o non ritorna Fortinet su iOS o ritorna Queste sono le due uniche alternative Quindi non ci saranno altri processi Come la va? La va diciamo Infatti ragazzi potrebbe essere un giorno per la carità Bellissimo dove finalmente vedremo ritornare Fortinet su iOS Ma potrebbe anche essere una data dove vedremo diciamo la sconfitta diciamo di Epic Games E quindi non vedremo ritornare insomma Fortinet su iOS Ovviamente non sappiamo altro Sappiamo solo che la data dell'ultimo incontro diciamo è questa Se andrà bene ritornerà Se non andrà bene invece ragazzi Purtroppo credo che non ci sarà più niente da fare per Fortinet Almeno che non voglia tornare con il contratto che aveva prima Io ragazzi per oggi vi ho detto tutti i leak Spero che vi sia piaciuto questo video Mi raccomando un bel like E iscrivetevi se non siete ancora iscritti E noi ci vediamo sicuramente con i prossimi giorni E niente ragazzi Bella